Oggi questo flash mob per chiedere cosa? Noi questo flash mob per sensibilizzare le istituzioni affinché questo problema venga risolto. Probabilmente stanno dichiarando che vogliono iniziare i lavori, ma se iniziassero però devono assicurare comunque anche un flusso alternato alla popolazione. Perché adesso siamo a ridosso della stagione balneare, ci sono le attività commerciali che rischiano il tracollo dall'altra parte. Quindi se iniziano i lavori, se li vogliono iniziare, se sono in grado, ma che lo facessero mantenendo un flusso alternato nel ponte. Perché se no l'isolamento di questi cittadini non si sa quando finirà. Perché sono previsti 300 giorni di lavoro e quindi i tempi si allungheranno, si allungheranno tantissimo. Non c'è bisogno di tagliare quante sei tiranti e distruggere il ponte. C'è bisogno di un'opera ordinaria di manutenzione, non straordinaria. E in tempi strettissimi il problema si sarebbe già risolto. Invece sono trascorsi otto mesi, un operario non si vede e ancora non si sa quando questo benedetto cronoprogramma inizierà. Capisce bene che la gente è stanca, non crede più a nessuno perché si passa da un'illusione all'altra. E quindi bisogna che ci si dia una mossa. Otto mesi che sono trascorsi in vano. Non è che il cronoprogramma è al netto dei lavori in fabbrica. Non è che il cronoprogramma parte dopo che loro finiscono i lavori in fabbrica. Perché se no ci vuole tre anni prima che iniziano il lavoro. Quindi l'idea è quella di un intervento mirato alle solo parti ammalorate per risolvere il problema velocemente. Non la distruzione del ponte perché questo comprometterebbe per sempre la stabilità dello stesso. Con rischio anche per il collaudo finale. I tempi si allungano e le attività commerciali e i residenti vanno incontro a fallimento. Questi si stanno mettendo sulla coscienza oltre all'eventuali incidenti che il percorso alternativo potrebbe causare anche tutte le partite vive che fanno business dall'altra parte. Ce l'avranno sulla coscienza se non risolvono questa questione. Mica la devo risolvere io o il comitato. C'è gente che è stata eletta, c'è gente che rappresenta le istituzioni. Questi hanno fallito. Loro la patata nelle mani la devo prendere. Non noi. Noi possiamo solo manifestare il disagio, altro non possiamo fare. Non si riesce a dialogare con nessuno. Ma guarda, noi abbiamo prodotto tre controperizie. Abbiamo tantissimo materiale che può dimostrare che il ponte non ha bisogno di questo intervento così distruttivo. Però, a quanto pare, le perizie non le vogliono prendere agli atti. Il libero consorzio noi l'abbiamo incontrato per tempo. L'abbiamo avvertito di non affidare i lavori. Perché i lavori erano complessi e i tempi si sarebbero allungati. Quando ce ne siamo andati da lì, dopo due giorni ha affidato i lavori. Quindi non ci ha preso in considerazione. E un'altra cosa che andava fatta, che io ho saputo per bocca della Murana, che è l'ingegnere, il RUP, il responsabile unico del procedimento del libero consorzio, ci ha detto che il ponte non lo vogliono più, il libero consorzio, la provincia, non lo vuole più. Ha detto fate istanza e l'avvocato è patrimonio del comune. Non lo vuole più nessuno. Ma serve ai cittadini, quindi qualcuno deve risolvere il problema. Qual è la benissima buona? Si chiama un esperto da New York e dice vero è che l'analisi chimica di questi acciaio e della Cassa del Suo 185 dice vero. Ingegnere, lei ha fatto una perizia. Perché non viene considerata? Semplicemente non viene considerata perché c'è una corresponsabilità di tutto l'apparato burocratico della provincia che è corresponsabile di questo stato di cose che nessuno vuole. E' un castello di carte che si regge con le corresponsabilità di tutti. Corresponsabilità della Murana, corresponsabilità del Presidente. Sono tutte delle persone che sono corresponsabilizzate in questa faccenda. Perché io ho consegnato loro le perizie, l'hanno sottovalutato e quindi dice ma tu puoi fare che due che boh. Un libero cittadino non si può presentare qua con una perizia e dice chi ne è sbagliato e chi ne è giusto. Dice deve essere trasmessa da un organo competente, da un organo che abbia un'arrivanza sociale. Io non sono una rilevanza sociale, sono un tecnico che ha visto che ci sono delle discrepanze tale che è necessario provvedere a fare necessarie riparazioni e non dimonizioni e ricostruzioni. Perché gli acciai non sono quelli che hanno detto loro. Il sindaco oggi dov'è? Dove è il sindaco? Ma perché lo domandi a me dove è il sindaco? Il sindaco deve fare il ponte alternativo. Aspetta che questo crolli per in modo proprio... Aspetta che crolli il ponte per farsi l'altro... Quindi questa corresponsabilità ha comportato che gli acciai furono declassati inizialmente dal primo progettista, l'ingegnere Granata, che adesso se n'è andato e ha lasciato tutto in mano alla moglie, che è l'architetta Fontana, la quale adesso sostiene il marito perché giustamente deve sostenerlo il progetto del marito e quindi con gli acciai degradati ha fatto le sue conticine e ha detto che questo ponte sta crollando, non che deve essere riparato, sta crollando. è necessario, prima che crolli lo butto a terra io, non se ne parla più e taglio tutte le 46 pendine, perché sta bene e da da banna e ora con il ponte carico non se ne parla più. Va bene? E quindi poi c'è un altro ponte nuovo, questo vuole praticamente. Va bene? Noi ci opponiamo a questo, noi speriamo che questa soluzione tecnica che hanno fatto, che sarebbe quella di demolire 46 pendine, non venga attuata e speriamo che si mettono in sicurezza con delle squadre da sagomati di acciaio, i pendini che ritengono loro che siano ammalorati veramente al punto tale che si potrebbero spezzare, che dopo è stata la causa della chiusura del ponte, perché solo questa è la causa della chiusura del ponte, perché ormai è sfatato il fatto che gli acciai sono quelli di progetto, sono quelli che i acciai resistono a 37 cm al metro quadrato di sforzo di trazione, quindi è tutto sballato il progetto che è stato fatto, che è stato fatto con lo solo scopo e con il solo obiettivo di raggiungere una strutturalmente la debolezza di questi acciai, in maniera tale che questa debolezza degli acciai comporta, facendo i calcoli, che il ponte nella fase ultima, che sarebbe quella in cui ci dovesse essere un terremoto, non dovrebbe reggere. Ma io guardo l'asfalto, lo guardo da anni questo asfalto, non vedo mai una crepa, non vedo mai una debolezza strutturale, perché le debolezze strutturali si manifestano subito con gli acciai che si cominciano a lesionare, con il piano stradale che si comincia, con le saldature che scoppiano, tutte cose che non esistono in questo ponte, quindi è un progetto falsato, questo progetto falsato che ha portato alle conseguenze che conosciamo, è quello che bisogna asfatare per far sì che il ponte venga semplicemente riparato e facendo la riparazione si possa riaprire subito, quindi il ponte può essere riparato senza tutto quello che hanno messo in opera. Perché c'è il numero che hanno detto? Senza tutto quello che hanno fatto. E' per il momento che si può tranquillamente transitare. Ma mentre stanno lavorando si può transitare. Ma basta mettere in sicurezza, guarda, per mettere in sicurezza a prescindere l'intervento, anche voi lo potete fare, pigliate le cose per fare i ponteggi, come si chiama, le gaffe per i ponteggi, no, agganciate questi pendini con queste gaffe e con gli altri pendini quelli che sono non rotti vicino, qui i carpentieri, si trovano i carpentieri, basta prendere una bacchetta di 18, va bene, la si salda con questi manicotti, va bene, e si mettono in sicurezza per eventuali colli questi pendini. Non c'è bisogno che intervenga la provincia, la potete fare pure voi questa operazione, la potete fare pure io che non sono carpentiere, piglio le cose, le presento cosa rincarpenteremo i metalli che si usa per fare i ponteggi, va bene, non ci vuole niente, quindi basta mettere in sicurezza questi quattro pendini, agganciandoli con tutti gli altri pendini che sono lateralmente buoni, va bene, e tutto si risolve, il progetto qui non cloverà più niente, a parte i lampadai che non so come sono messi, perché i lampadai a quanto pare uno è crollato, va bene, altri non ci sono più, bisognerebbe verificare queste cose, va bene, e questa è la situazione.